Abbiamo parlato dell'etica di Socrate e per etica di Socrate abbiamo inteso l'etica che il Socrate platonico espone nei dialoghi platonici della giovinezza. In particolare abbiamo parlato del cosiddetto Trasimaco, il primo libro della Repubblica e poi abbiamo parlato del Protagora in cui ci viene proposta una concezione etica di tipo quantitativo. L'etica si fonda su un calcolo, un calcolo che deriva da una scienza, cioè la scienza che distingue il bene, ossia il piacere, dal male, ossia il dolore. Facendo un calcolo ricaviamo quale azione ci dà maggiore piacere e dunque più buona e dunque sceglieremo questa azione. Nel momento in cui la conosceremo non potremmo che volere questa azione che è la più buona. Intellettualismo socratico. Se fai il male lo fai per una lacuna conoscitiva, cioè fai il male in quanto quel male lo scambi per il bene. Questa è la posizione socratica. Così Trasimaco nel primo libro della Repubblica dicendo che la giustizia è l'utile del più forte e minando quindi tutta la concezione politica dei libri successivi della Repubblica avanza questa concezione della giustizia Trasimaco per ignoranza del bene. Questa è un po' la posizione socratica che abbiamo visto. Cerchiamo adesso di parlare dell'etica di Platone. Per etica di Platone intenderò la posizione etica di Socrate nei libri successivi della Repubblica e poi nel Filebo. Dunque nel secondo libro della della Repubblica inizia a delinearsi una critica che presumibilmente Platone rivolgerebbe al Socrate storico. Cioè una critica a questa concezione quantitativa dell'etica socratica che viene appunto esposta nel Protagora. In realtà diversi studiosi dubitano che questa etica quantitativa intesa come calcolo del piacere sia davvero attribuibile al Socrate storico. Certamente questa etica che si basa su un calcolo del piacere viene rigettata da un'etica diciamo così platonica che ritroviamo già a partire dal secondo libro della Repubblica. Ora c'è da dire che il secondo, il terzo, il quarto libro della Repubblica non conoscono ancora la teoria delle forme che nella Repubblica viene esposta nei libri cosiddetti metafisici, nei libri centrali della Repubblica. Quindi ci saranno due momenti etici nella Repubblica. Un primo momento dove si cercherà di sviluppare un'etica antisocratica, nel senso in cui si è detto, e antitrasimacchia, senza però servirsi della teoria delle forme. Ci sarà poi un secondo momento nella Repubblica, invece, dove si cercherà di sviluppare questa stessa concezione etica, ma sulla base della teoria delle forme, dunque su un presupposto ontologico più solido. Diciamo subito che in realtà l'etica platonica risulta meno articolata e meno interessante di quella che possiamo chiamare etica socratica. Dunque, nel secondo libro della Repubblica vengono presentati due nuovi personaggi, che sono i due fratelli di Platone, Adimanto e Glaucone. Costoro, un po' sulla scia di Trasimaco, negano che la giustizia sia preferibile all'ingiustizia. Cioè, negano in fin dei conti che ci sia una giustizia oggettiva, ma senza una giustizia oggettiva non si può fondare su un piano teoretico quel modello, quel paradigma in cielo di Callipolis, di città buona e bella, che Platone invece proprio nella Repubblica vuole realizzare. Quindi Platone, senza servirsi della teoria delle forme, da principio cerca contro Adimanto, contro Glaucone, ma in ultima istanza contro lo stesso Trasimaco, cerca di dimostrare che invece la giustizia è qualcosa di oggettivo e che è sempre ben distinguibile dall'ingiustizia e soprattutto preferibile all'ingiustizia. Come la vista è preferibile alla cecità in modo oggettivo e la salute alla malattia, così la giustizia sarà preferibile all'ingiustizia. Tant'è vero che la giustizia è salute, è assenza di malattia, l'ingiustizia invece è malattia. Non salute del corpo, bensì salute dell'anima e salute della città. Ecco qui che vediamo subito una presa di distanza dall'etica socratica. Non ci si interessa più della giustizia, della virtù come qualcosa che riguarda il piacere fisico. Invece la virtù, la giustizia è ciò che dà piacere, se vogliamo così esprimerci, bensì però piacere all'anima e alla città. è la salute dell'anima e della città. Dal corpo si prendono le distanze, dal piacere fisico si prendono le distanze. Il piacere fisico è proprio di una parte, della parte più bassa dell'anima e della città. Quindi il punto di partenza dell'etica platonica nella repubblica è lo stesso punto di partenza politico, cioè l'isomorfismo dell'anima con la città. Se nel fedone Platone aveva inteso l'anima come qualcosa di unitario, omogeneo, compatto, nella repubblica la psicologia platonica più articolata. L'anima è tripartita, cioè una parte bassa dell'anima volta ai piaceri del corpo, della carne, il cibo, il sesso. Poi una parte mediana che riguarda l'aggressività e infine la parte superiore logisticon che riguarda appunto la ragione. Ogni uomo è costituito da questi tre elementi psichici, però in ogni uomo uno di questi tre tenderà a dominare sugli altri. Allora potrà dominare la parte razionale e la virtù corrispondente alla parte razionale sarà la sapienza. Potrà dominare la parte aggressiva. In questo caso, se domina la parte aggressiva sulle altre due, si può incanalare questa parte aggressiva nella virtù del coraggio. Coraggiosi devono essere i militari che costituiscono la città, laddove sapienti devono essere i governanti, i filosofi re. Infine, chi è dominato e sono i più dalla parte concupiscibile, dedita ai piaceri della carne, ebbene anche costoro potranno e dovranno, al fine di avere un'anima, un microcosmo e una città, un macrocosmo sano e quindi giusto e quindi virtuoso e quindi felice, dovranno incanalare questa loro componente psichica predominante, appunto la concupiscenza, incanalarla nella temperanza, nella virtù della temperanza dell'obbedienza. Saranno questi gli artigiani che dovranno produrre e dovranno ubbidire, senza cadere, senza scadere nei desideri più vierechi del corpo. Ecco, questa tripartizione psichica del microcosmo, alla quale corrispondono appunto queste tre virtù, la sapienza, il coraggio, la temperanza, corrisponde una tripartizione della città, cioè nella città vi sono tre classi corrispondenti a queste tre parti dell'anima. Chi presenta un'anima anzitutto razionale dovrà formarsi, conoscere il vero per essere buono, questo elemento socratico, verità, bontà, felicità, trapassa Platone. Ebbene, chi presenta l'elemento razionale predominante dovrà governare la città. Chi presenta come elemento dominante dell'anima la parte aggressiva dovrà combattere per la città i guerrieri. Infine, i più che presentano come predominante la parte più bassa dell'anima saranno gli artigiani. Quindi a quest'anima tripartita corrispondono tre virtù, sapienza, coraggio, temperanza e tre classi sociali, i governanti, i guerrieri e gli artigiani. Giustizia è salute dell'anima e della città. E cosa significa salute? Salute significa armonia, giustizia significa armonia e giustizia significa felicità. Per avere un'anima e una città felici, giuste e virtuose dovremo avere armonia tra queste tre parti. Qui vediamo subito una polemica velata nei confronti di Socrate, il quale vede le diverse virtù intrecciarsi in un'unica virtù che ha come fondamento, la scienza che distingue il piacere dal dolore, appunto, fronesis. All'unità, la compattezza della virtù socratica corrisponde la tripartizione platonica. Dall'altro, però, soprattutto, qui chiaramente, Platone ha come versaglio polemico Trasimaco, Glaucone, Adimanto. Cioè, coloro i quali pensano che una parte, la parte dominante, il governante, possa ed ebba imporsi sugli altri a scapito degli altri. Ci deve essere invece armonia nella diversità. Ognuno deve fare il suo, ma affinché ci sia una armonia, una concordia, affinché tutti siano felici. Un uomo ricchissimo e potentissimo, un tiranno, che fa le leggi per sé e vive in una città che è flagellata, non sarà felice. Non sarà felice nella città e non sarà felice dopo morto, già che patirà le pene dell'inferno. Ecco, quindi la giustizia e l'armonia tra le parti. Ognuno deve fare ciò che è più adatto a lui, costitutivamente, o meglio, psichicamente. E questo, ognuno faccia il proprio, culmina in una armonia dell'anima individuale e della polis collettiva, un'armonia che porta il bene di tutti. Questa è la giustizia, armonia tra le parti, questa è la salute, questo è il fulcro etico, appunto, platonico. La felicità e armonia tra le parti. No, predominio di una parte sulle altre, tanto a livello microscopico quanto a livello macroscopico. La giustizia, dunque, è armonia tra gli elementi psichici. La giustizia, la virtù, comporta la felicità e la felicità non è mai della singola parte, ma sempre dell'insieme. Perché Platone vuole abolire la famiglia, perché la famiglia è un elemento discregatorio. Nella famiglia ci si ritrova ognuno nella propria casella, come nel gioco degli scacchi dove ci sono tutte le caselle separate. Ci vuole invece unità, armonia, nella differenza, perché ognuno deve fare il suo e per natura una persona tende ad occupare una certa classe sociale piuttosto che un'altra. Ma tutti devono concorrere al bene collettivo. E il bene collettivo, la felicità, è salute dell'anima e della città, non del corpo. Il corpo riguarda solo la parte più bassa, il ceto più bassa, che può possedere beni perché tende alla terra. Però i ceti più elevati dovranno addirittura rinunciare ai piaceri del corpo. Questa è un po' la polemica antisocratica, ma soprattutto c'è una polemica antitrasimachea che mira appunto ad affermare l'etica è al servizio della collettività. Se c'è una parte che prevale sulle altre, che fa violenza sulle altre, non ci può essere etica, ma l'etica ci deve essere. È qualcosa di oggettivo, come la salute del corpo è oggettivamente preferibile alla malattia del corpo. E che cos'è quindi oggettivamente l'ingiustizia? L'ingiustizia si dà quando una parte dell'anima o della città si ribella alle altre e fa il proprio interesse a scapito delle altre. Qui si ha ingiustizia. Sarà infelice non solo chi subisce all'ingiustizia, ma anche chi compie l'ingiustizia, già che ognuno nella città è infelice se non c'è un'armonia collettiva. Sei giusto e sei felice se l'anima e la città sono nell'insieme in armonia. È razionale volere questa armonia, così come è razionale affermare che la salute del corpo è preferibile alla malattia. Ed è quindi razionale agire per conseguire tale armonia. Trasimaco non la pensa così per il semplice fatto che ignora ciò che è bene e quindi non può agire per il verso giusto. In questo senso in qualche modo l'intellettualismo socratico trapassa nell'etica platonica. Agisco bene, mi comporto bene in città, assolvo i miei compiti per il bene del collettivo. Agisco bene perché conosco il bene. E il bene che cos'è? Il bene è il vero, è la verità. Intelletto, verità, conoscenza da un lato e volontà, virtù dall'altro vanno a braccetto. Il bene è il vero. E che cos'è il vero? Il vero è rappresentato su un piano ontologico dalle forme, dalle idee che sono contemplate dalla ragione, dalla parte più alta dell'anima che è incarnata nei filosofi re, nella classe più elevata della città. Tant'è vero che il culmine ontologico dell'antologia platonica alla vetta del mondo delle idee si trova l'idea del buono. All'idea del buono sono dedicate alcune righe nella repubblica molto oscure che segnano però una superiorità ontologica in qualche modo dell'idea del buono rispetto alle altre. Ogni cosa in quanto è incasellata in un ordine armonico generale sarà buona. Il buono è in qualche modo un trascendentale, addirittura al di là dell'essere. Appunto la bontà è il culmine ontologico ma è anche il culmine della stabilità e dunque della verità in Platone tutto si tiene. Tanto maggiore è la stabilità su un piano ontologico, tanto maggiore sarà la verità che questa stabilità garantisce e la bellezza e la bontà eccetera eccetera. Quindi chi è razionale può conoscere il vero perché partecipa del vero e quindi può essere nel giusto e agire bene e essere felice. L'intelletto e la volontà fanno tutt'uno e chi può conoscere il vero, chi ha come parte predominante dell'anima la ragione. Costoro in quanto conoscono il vero, contemplano le idee, possono agire bene e per questo devono assumere una posizione di direzione all'interno della città, dovranno dirigere le altre classi sociali al fine di avere un'armonia collettiva laddove le altre classi sociali tendono alla discregazione. Chi ha un'anima aggressiva tende ad essere ambizioso, cerca una carriera politica che lo porta però a intendere la politica in termini di sopraffazione, di imporre la giustizia come utile del più forte a scapito degli altri, modello trasimacheo. E chi ha una parte concupiscibile, dominante, i più tenderà ad essere avaro, a preferire i piaceri della carne e a metterli davanti rispetto al bene collettivo. La parte razionale, il filosofo re, dovrà cercare di dirigere, incanalare, sublimare queste parti, tutte le parti, al fine di un ordine collettivo. Queste parti che tendono a discregazione sono comunque necessarie al fine di avere un'armonia collettiva. Vanno però incanalate nel modo corretto, che è il modo razionale, perché solo la conoscenza del vero ci permette la bontà e quindi la felicità. Nel simposio, credo, Platone ci dice appunto che è possibile incanalare anche l'eros, anche gli istinti più bassi, verso una qualche razionalità. A partire dall'attrazione sessuale verso la carne si può indirizzare verso l'attrazione, in qualche modo ancora erotica, non più per la carne ma per le forme razionali. E quest'opera di coordinamento che permette l'armonia e quindi la salute delle anime individuali e della collettività è affidata dal filosofo re, già che il filosofo re contempla il vero e quindi può fare il bene. Scienza e azione, volontà e intelletto fanno tutt'uno. Si capisce che l'etica platanica è tutta sbilanciata verso la razionalità, verso un aspetto spirituale, non più quantitativo materiale, qual era l'etica socratica del protagora che invece appunto si focalizzava su un calcolo quantitativo del piacere. Non abbandona però nemmeno il Socrate platonico della Repubblica del tutto il calcolo quantitativo nell'orizzonte etico, tant'è vero che ad un certo punto attraverso uno dei suoi calcoli piuttosto astrusi, Platone ci dice che il filosofo re, proprio in quanto è in grado di creare un'armonia tra le parti, riesce a vivere in un mondo che è ben più beato rispetto al mondo del tiranno e ci dice quante volte più beato rispetto al mondo del tiranno è. Ebbene il mondo in cui vive il filosofo re, è ben 729 volte più beato rispetto a quello del tiranno. Il tiranno chi è? Il tiranno è colui che preso dall'eros, dai piaceri del corpo, va al potere ed impone le sue leggi che non sono giuste ma sono la somma ingiustizia, già che segnano appunto l'ideale trasimacheo dell'utile del più forte, trasforma in leggi e ingiustizia i soprusi che lui stesso tiranno esercita sulle parti, disgregando la collettività. Il tiranno dice che il giusto è l'utile del più forte, lui è il più forte e fa ciò che lui crede essere giusto, ossia il suo utile personale a scapito delle altre parti, ma facendo ciò commette ingiustizia per ignoranza e quindi non è felice perché se non c'è armonia fra le parti nessuna parte può essere felice, nemmeno quella che esercita violenza sulle altre. Ecco questa presa di distanza da un'etica fondata sul piacere, presa di distanza che nella Repubblica si farà forte soprattutto dopo appunto la curvatura ontologica che si darà con i libri centrali della Repubblica che vanno appunto a tematizzare la teoria delle forme. Ebbene questa polemica verso un'etica basata sul piacere, quale poteva essere quella del Protagora, viene in qualche modo abbandonata nel Filebo. Nel Filebo ci sono due personaggi, il Filebo è un dialogo della tarda maturità forse addirittura della vecchiaia, i due personaggi principali sono Protarco e Socrate e si ritorna appunto al problema dell'etica in relazione al piacere. Protarco dice che il maggiore dei beni è il piacere, Socrate in Repubblica è la sapienza il maggiore dei beni, non il piacere. Il più alto, il migliore dei piaceri è inferiore alla sapienza. E tuttavia, questo è un punto importante, nel Filebo il preatore ci dice, per mezzo di Socrate, che nemmeno la sapienza presa da sola basta, cioè bisogna cercare una armonia, una via di mezzo. In etica non basta solo la sapienza, ma bisogna porre in armonia la sapienza e il piacere, tenuto fermo che il piacere è inferiore alla sapienza. Una vita mista insomma quella che ci propone Platone nel Filebo, che vada a trovare un'armonia, una proporzione giusta tra la sapienza e il piacere. Sarà poi la posizione anche di Aristotele, bisogna dire che spesso Platone e Aristotele sono visti come contrapposti, non lo sono su un piano teoretico, come è noto basta leggere i dialoghi teoretici della vecchiaia di Platone, ma non lo sono nemmeno su un piano etico e politico. È vero che Aristotele si contrappone fortemente a molte tesi etiche e politiche della Repubblica, però se ci leggiamo i dialoghi etici e politici della vecchiaia, il filebo, il politico eccetera, vedremo che influenzano molto il pensiero pratico di Aristotele. Ci dice Platone nel Filebo, una vita fatta solo di piacere, senza sapienza, è un po' la vita di un mollusco, cioè siamo immersi nel piacere ma non abbiamo coscienza di questo flusso di piaceri che ci attraversa e che è alienante potremmo dire, no? La vita di un mollusco è in qualche modo la polemica che Aristotele alzerà contro chi dorme, chi dorme non può essere felice per quanto magnifico sia il sonno. Ci vuole appunto ragione e ci dice Aristotele nemmeno i bambini possono essere davvero felici perché ci vuole il discernimento proprio dell'età adulta. Solo un uomo adulto e sveglio d'esto può essere virtuoso, buono e felice. Ma una vita immersa solamente del piacere, senza sapienza, non può essere una vita felice. Al contempo ci dice Platone nemmeno una vita solo dedita alla sapienza ma senza piaceri può essere una vita realmente felice. Tal proposito questo discorso mi ricorda un po' quello che diceva Thomas More, credo nella sua utopia, in qualche modo riecheggia anche l'utopia platonica in cui diceva che chi si astiene dai piaceri del corpo è più santo ma chi non si astiene dai piaceri del corpo è più saggio. Sì mi pare proprio fosse Thomas More. Scrive Platone nella pagina Stefanus 21 di e questo ragionamento Socrate mi ha messo per ora nella totale impossibilità di parlare e Socrate eppure non lasciamoci ancora battere ma passando ad esaminare un'altra vita vediamo quella dell'intelligenza. Di quale via intendi parlare? Se qualcuno di noi d'altro canto accettasse di vivere possedendo sì pensiero, intelligenza, scienza ed ogni ricordo di tutte le cose ma senza partecipare né tanto né poco del piacere e neppure del dolore ma restando assolutamente privo di tutte le affezioni di questo tipo. Nell'una nell'altra di queste due vie Socrate sembrerebbe da scegliersi né a me né ad altri mai immagino né la via del solo piacere né la via della sola sapienza.